Salve a tutti, oggi un video diverso dal solito perché... beh, mi andava di farlo. Ho un canale e posso dire quello che voglio, pagandone le dovute conseguenze. In questi giorni stanno accadendo cose particolari e la gente sente il dovere di schierarsi. A cosa mi riferisco? Beh, all'ennesimo scontro tra due figure del web. E in questa circostanza la parola chiave è ennesimo. Per rispetto delle due parti, in particolare di una delle due, non dirò cosa sono e nello specifico cosa è accaduto. Ma tanto credo che ormai sia caso nazionale. Siete confusi o ignari di tutto? Nessun problema, vi do giusto un'infarinatura generale. Diciamo che la scaramuccia tra A e B ha messo alla luce un forte dolore di A. che di conseguenza ha chiesto, ribadisco, chiesto alla sua fanbase di non seguire il canale contenuti di B. Reazione comprensibilissima visto che B utilizza una formula, ha utilizzato spesso una formula, che prevede il denigrare, umiliare e attaccare colleghi. Ora B si ritrova con un botto di scritti in meno. È al centro di un polverone distruttivo che, a detta di alcuni, è fin troppo esagerato. Io dico solo che nella vita devi essere responsabile delle tue azioni e accettare le conseguenze, cercando di evitare di incolpare altri per l'accaduto. Intanto c'è chi dice che A è un abile stratega che sfrutta la figura di vittima per vincere il confronto a ogni costo. Ricordo però che c'è di mezzo un trauma personale bello grosso, uno di quelli che ti segnano a vita. Eh ma Scream, sei troppo ingenuo, nel mondo esistono dissimulatori e manipolatori capaci di arrivare a tanto. Vero, ma non per questo do per scontato che siano tutti così. Insomma, e nel mondo esistono anche i serial killer, ma non vuol dire che se uno mi ferma per strada per chiedermi l'ora io prendo e scappo. È tutti che vogliono dire la propria. Davvero lo dimostra anche il fatto che già tra voi, soprattutto tra quelli che hanno capito di chi sto parlando, già molti di voi faticano a trattenersi dallo scrivere cosa ne pensano qui sotto il video. Ed eccomi qui, pronto a violare una delle prime regole di un content creator, invitandovi a non farlo. Sapete come funziona, no? Più commenti ci sono, più interazioni ci sono e meglio è per il creatore di contenuti. Bene, non fatelo o quantomeno non parlate proprio di quel caso specifico proprio sotto questo video. Quello che è successo A è ingiusto perché si è ritrovato costretto a spiattellare un dolore privato ai 4-20 solo perché B ci stava monetizzando. Pur non parlandone, pur girandoci attorno, B stava sfruttando quel dolore. E ribadisco, per alcuni è A ad approfittare della situazione. Per farvi capire il grado di gravità, è come dire che al funerale di suo padre, Tizio si è messo a piangere per attirare l'attenzione. Il punto è che A vorrebbe solo rispetto e silenzio sulla vicenda. Ma se sul web la gente deve parlarne. Video dedicati, dibattiti, podcast, è uno sciacallaggio continuo. A nessuno gliene frega niente di A. A nessuno gliene frega niente davvero di come si sente, di quello che chiede, di quello che vorrebbe A. Non importa a nessuno, ok? È diventata la news del momento. È certo perché sono visual, like, commenti, soldi. A non ha fatto nulla per meritarsi questo trattamento. È tutta una diretta conseguenza del comportamento di B. A sta pagando per qualcosa che non ha fatto. Eh, ribadisco, è una cosa completamente sbagliata. Estendiamo un attimo il discorso, viva. Internet è una sorgente di informazioni e contenuti alternativa alla TV, ok? Una vera e propria miniera di contenuti ed esperienze. C'è così tanta roba da non sapere nemmeno dove andare, cosa cercare. Vi capita mai nel tempo libero di trovarvi davanti a Google e non sapere cosa digitare? Proprio dire, mmm, adesso che guardo è stare lì anche dei minuti a pensarci perché c'è troppa roba. La televisione italiana è diventata abbastanza scadente. Una volta c'erano i filmoni da prima serata. Adesso per trovare con maggior frequenza un po' di contenuti di qualità, e neanche è garantito, devi passare su altre piattaforme, Netflix, Prime e via discorrendo. Quello che rimane sui canali principali, diciamolo pure, non è granché. Cioè, sono format vecchissimi, reality show, dibattiti, materiale abbastanza sciatto e scadente. Manca poi una sorta di ricambio generazionale, sono sempre gli stessi volti. A causa di questo notevole abbassamento di qualità della televisione italiana negli ultimi anni, molti hanno deciso di abbandonare quel tipo di intrattenimento e di passare ad altro. Ed è legittimo, io sono tra questi. Ora, popolo del web, vi chiedo, cosa ne pensate di uomini e donne? O di forum? O di quei programmi che mettono alla berlina dei perfetti sconosciuti, o degli attori pagati per interpretare un ruolo? Che ne pensate dei programmi orbitanti attorno ai reality show, che discutono sul come si è comportato tizio o caio? In genere, la risposta delle persone che hanno abbandonato la tv è o che è schifo o chi se ne frega. Ora seguitemi bene. Perché chi appartiene alla nutrita categoria di persone che disdegna certi con un tenuti televisivi si impegna a trasportare questo format, queste formule, qui sul web? Ci sono canali e podcast che fanno praticamente solo quello. Prendono una vittima sacrificale facile da bersagliare, le puntano i riflettori addosso e lasciano che i follower, la chat, faccia il resto. Canali e podcast straseguiti con numeri belli altini che puntano a un target di persone diverso dai cinquantenni o dagli appassionati della televisione italiana. Anzi, lì in mezzo ci sono proprio queste persone che si sono allontanate dalla tv italiana. Tra gli spettatori di questo tipo di spettacolo ci sono quelli che alzano il dito medio verso i programmi televisivi che propongono lo stesso format che seguono sul web. Lo so, giunti a questo punto, vi state chiedendo dove voglio arrivare. Nulla di che, era giusto una riflessione personale che volevo condividere. Ognuno tragga le proprie conclusioni, però mi sento di dover fare un paio di osservazioni. Se d'abitudine seguite un certo tipo di spettacoli nei quali uno o più persone mettono alla berlina dei perfetti sconosciuti o personaggi famosi senza una ragione valida ecco, ricordate che un giorno potreste essere voi quelli al centro dell'attenzione e non vi piacerebbe, credetemi. Ogni singola parola rigirata contro di voi domande personali e imbarazzanti sarcasmo, battute su eventi che vi riguardano la vostra vita diventerà uno scherzo. Se siete dei creatori di contenuti e qualcuno vi tira in ballo per dar vita a una guerra sulla fuffa ignoratelo. Davvero, non parlatene, non rispondete fate finta che non esista se esagera, portatelo in tribunale ricordate comunque che per litigare bisogna essere in due. Se siete creatori di contenuti e come format decidete di prendere di mira persone che hanno meno follower di voi bersagli facili giusto così, no? per dare dei contenuti su cosi da gossipare, eccetera fate pena. Esiste una parola per definire tutto questo? Esiste, viene usata spesso quando il caso è molto più evidente e non mascherato dietro riflettori, chiacchiere e falsi sorrisi. Cyberbullismo. Perché lo fanno? Beh, l'ho detto, per le views, per i soldi e grazie alla vostra partecipazione. Quindi, se certe persone bullizzano e vanno di sciacallaggio per ottenere la nostra attenzione cosa potremmo fare noi per rovesciare questo trend? Pensateci, non è difficile. Alla prossima. A proposito di sciacalli, di sensazionalismo di cose di questo tipo il video che state guardando non è monetizzato.